Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Secondo le ultime dichiarazioni di Filippo Turetta, sembra che abbia espresso pentimento e chiesto perdono senza fornire una spiegazione chiara del suo gesto omicida. Afferma che l'atto potrebbe essere attribuito a un eccesso di follia, rendendo difficile discernere quanto di queste dichiarazioni sia sincero, quanto sia ponderato in linea con una strategia difensiva, e quanto possa essere minimizzato, come riportato dal giornale Il sito suggerisce che i veri pensieri di Filippo, attualmente detenuto a Verona, potrebbero essere sconosciuti persino a lui stesso. I pensieri e i sentimenti che compongono la sua personalità, esplosa nel giorno dell'omicidio come un ordigno, potrebbero essere difficili, se non impossibili, da esprimere verbalmente. Si sottolinea che tali pensieri potrebbero rimanere inaccessibili anche a lui stesso, e che difficilmente affioreranno in forma verbale. Il giornale.it menziona che Filippo aveva dichiarato di non potersi separare dalla ragazza che alla fine ha ucciso con una delle sue schegge. Non è chiaro se Turetta abbia seguito o meno i funerali di Giulia, ma è stato riportato che avrebbe avuto accesso a una televisione, come ogni detenuto, per poterli guardare.